Ferragosto senza plastica. A mezzogiorno di questa domenica ci siamo ritrovati per un'esortazione ecologica contro la dispersione di materiali plastici in mare soprattutto. Abbiamo alzato tutta una serie di oggetti di plastica, soprattutto monouso, quindi con le mani all'aria al grido di basta plastica in mare. Da Rimini, da Rimini questa esortazione per la tutela dell'Adriatico e del mare, il nostro bene comune per eccellenza, il nostro patrimonio naturale più prezioso. Questa esortazione ecologica parte dall'associazione di promozione sociale Basta Plastica in Mare Network per l'Adriatico che punta a fare sensibilizzazione, che si spende nel fare cultura per le tematiche ambientali e per la tutela soprattutto della nostra risorsa, del nostro bene comune più prezioso che è il mare. Basta Plastica in Mare da Rimini! Basta Plastica in Mare da Rimini!